Sì, sì, sì. Siamo iniziati. Sei tutto? No. Non sei niente. Non le ho le regole del sottotone? Come no? No, eh. Se qua non ho le lette, no. No, guardavo spai a casa. Guardavo spai a casa. No, no, no. Cosa te le ho le regole del sottotone? Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui. Sì. Non lo fattolo? Sì, non lo fattolo. Non lo fattolo. Sì, non lo fattolo. Siamo sottotone. Siamo con i costi adesso. Sì. Sì. Non quella donata. è lungo allora allora presi il disruppo mettiamo l'ultimo di saltare allora allora free fin di gruppo per saltare si salta di testa e non di piedi prima regola poi quando saltate farete il primo salto poi il primo ribalzo il secondo salto e il secondo ribalzo quando iniziate il secondo ribalzo il ribalzo vuol dire quando andate verso il volto ok per la seconda volta prendete questa corda marrone quando per la seconda volta il elastico tende a riportarvi sul volto voi pesate la metà del vostro ritmo per cui ci sono fatica e il tirarvi su ciao e il tirarvi su con questa corda a inolvo potete fare un minimo di se non ce la fate a tirarvi su tutto a questa rosa potete fare un pezzettino poi aspettate la lunga l'importante è arrivare a questa rosa se è arrivata a questa rosa lo vedete più fatica non state più lì i braccii e i braccii in su ma voi siete sospesso al gampiero in questa stazione i braccii in su noi li caliamo quando siamo alla corda da un'altra e i ragazzi si recuperano con una mano rimanete tutta qua e con l'altra si attrappate questa corda in modo che ci possiamo far riferire sulla sponda e non l'altra se qualcuno decide andare nel mappo c'è uno basta chiaro? peso? 79 quando è che c'è? io eh la di là è un'altra 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 andiamo sì andiamo andiamo ragazzi non fermi sul botte per favore con la macchina non ti allargo e non ti è fuori allarga le braccia e poi allarga Sto legato? 3, 2, 1... Bangi! 3, 2, 1, bangi! Spegni il cervello e vai! 3, 2, 1, GO! Mangi il cervello e manoperta. E' militan. Conceito. Magnifique poison! Mistake maina. Sparrow UAV training. Grazie a tutti.